Gentili telespettatori, buona giornata. Accendete l'aria condizionata in auto? Attenzione perché ci sono delle multe molto alte. Vediamo come e quando si può essere multati per l'aria condizionata in macchina. Quindi se tieni l'aria condizionata accesa in auto rischi la multa. La sanzione, in caso la manopola non è a livello zero, se la macchina in sosta può arrivare, è anche molto alta. Si parla infatti di ben 435 euro. L'introduzione del divieto ai più sconosciuto ha invece origini ben lontane, il 2007. I suoi importi oscillano tra 41 e 168 euro. Nello stesso anno è arrivata anche la modifica al codice della strada attraverso un decreto successivamente modificato nel 2010. Nel comma 7 bis dell'articolo 157 si legge è fatto di vieto di tenere il motore acceso durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo. Poi anni dopo, nel 2014, gli importi sono arrivati alle stelle, diventando tra 218 e 435 euro. Il caso non è solo italiano. In Europa sono molte le città che puniscono chi tiene l'aria condizionata accesa con un'auto ferma. A Londra, per esempio, la sanzione è di 20 sterline, 23,35 euro, e se non viene pagata subito, ossia nel momento in cui il foglietto viene staccato dal tacquino, non si può ripartire. Multa più salata a Madrid, in Spagna, dove la sosta con l'aria condizionata accesa è di 100 euro. Avete presente quando uno dice, senti, vai in quel negozio, io ti aspetto in macchina, no? Ti aspetto in macchina, magari siete in due in macchina, la persona scende perché deve andare a prendere qualcosa, e voi siete fermi, magari col motore acceso per l'aria condizionata, perché fuori è estate, con 37 gradi, e allora lasciate l'aria condizionata accesa, e non si può fare. Come fa il vigile a sapere che voi avete l'aria condizionata accesa? Dice, scusi, abbassi il finestrino, mi faccia vedere se è accesa l'aria condizionata, no? E beh, insomma, bisognerebbe, secondo il codice della strada, spegnere la macchina, abbassare tutti i finestrini, e stare come tutti gli altri che sono in giro a piedi. Niente aria condizionata, perché questo inquina. Inquina il motore acceso, non l'aria condizionata, perché voi lasciate il motore acceso per, sennò l'aria condizionata si spegne, non funziona. Ci sono delle macchine che in maniera automatica, l'aria condizionata, anche se spegnete il motore, va avanti per un po' di tempo, poi si spegne. Ci sono macchine che voi potete accendere l'aria condizionata prima di salirle. Potete impostare che alle 7 del mattino si accende l'aria condizionata in macchina prima di uscire, come riscaldamento, come raffrescamento. Va solo con la batteria, senza accendersi il motore. Però sono poche le macchine che fanno questo. E così, attenzione perché la multa è da 435 euro. Bisogna vedere se avvicina il vigile. Scusi, uno spegne l'aria. Lei ha l'aria condizionata accesa? No. Però qui sento bello fresco che esce. No, è spenta. Eh ma io sento fresco, l'avete spenta adesso? Insomma, sembra un po' una cretinata, ma è una cretinata che non è solo in Italia. Avete visto che è in diversi paesi al mondo. Intanto, anche sulla tessera sanitaria ci sono delle multe da 100 euro. L'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere quali sono le sanzioni previste in caso di omessa o tardiva ed errata trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria. Di fatto viene applicata una multa da 100 euro per ogni comunicazione. Ad essere interessati sono le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Cosa significa l'errore nell'invio dei dati? L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i 100 euro, la sanzione valida per ogni singolo documento di spesa errato, omesso o tardivamente inviato, perché una diversa lettura non consentirebbe infatti di ottenere l'effetto dissuasivo prospettato nella relazione illustrativa. Insomma, per quanto riguarda la dichiarazione precompilata è stata seguita la linea durissima, con evidenti conseguenze per chi commette una svista nell'invio dei dati della tessera sanitaria. Dunque, soprattutto i liberi professionisti devono porre attenzione alle comunicazioni al fisco, pena una multa salata da 100 euro per ogni documento errato. Quindi, se voi andate da qualche parte dove devono prendervi i dati della tessera sanitaria e comunicarli, se sbagliano sono multe da 100 euro. Questo probabilmente è fatto per evitare delle truffe, no? Uno manda i dati di un'altra persona, no? Ecco, adesso non hai dato sapere esattamente su quale truffa cerca di evitare questo, però le multe tra la tessera sanitaria e il condizionatore in auto sono belle alte, no? 435 euro se tieni il motore acceso per tenere il condizionatore acceso. Stessa cosa è anche d'inverno, quando uno magari sta in macchina perché l'altro deve, sta andando a fare una commissione, dice guarda non trovo parcheggio, ti aspetto qua con il motore acceso e fuori ci sono zero gradi, se voi spegnete la macchina la temperatura scende presto anche nella macchina. Ecco, quindi chi non è rimasto mai nella macchina con il motore acceso per il riscaldamento d'inverno o con il motore acceso per l'aria condizionata d'estate. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti e ricordatevi che poi c'è anche Tele Italia Seconda Rete dove trovate video di politica, di notizie e di fai da te. Grazie nuovamente, arrivederci tutti, a presto e dimenticavo che poi questi video vengono condivisi dopo qualche ora nella pagina di Facebook che si chiama Tele Italia. Grazie nuovamente, arrivederci. Grazie a tutti.